Musica Gentilissimi spettatori bentrovati, nuova edizione del TG Mattina, oggi venerdì 15 marzo 2024, Santa Luisa, subito le prime pagine dei quotidiani, in uscita oggi partiamo da Novara e viceo della stampa, Novara avrà il museo al castello per esporre i gioielli archeologici, approvato il progetto esecutivo, il costo complessivo si aggirerà sui 900 mila euro, dell'opera si parla ormai da anni, ora ci sarà il via libera, saranno in vetrina oltre 400 reperti. Oggi a Gagliate alle 11 appuntamento con la libertà secondo il teologo Vito Mancuso e poi a Verbania c'è la sfida, domenica ci saranno le primarie del PD, la parola ai due sfidanti, lo vedremo tra poco. L'artigianato mette in vetrina le eccellenze del territorio, domani domenica in Piazza Martiri, la sedicesima mostra mercato con 25 aziende piemontesi, focus sugli antichi mestieri, dalla tessitura all'oreficeria, spazio anche al settore alimentare, presenti attività che per l'alta qualità si freggiano del marchio regionale. Studenti e lavoro, un questionario per farli incontrare, l'iniziativa di confartigianato, dunque il museo archeologico al castello c'è il piano, sarà pronto in autunno, approvato il progetto per la sistemazione dei locali e delle collezioni di reperti antichi donati dai collezionisti. Al via domani le celebrazioni per la battaglia della Bicocca, la Novara Risorgimentale 2024. Ad Arona riapre il San Carlone, la statua colosso con vista sul lago, a partire da oggi la scalata al monumento. Troppa tensione in carcere, gli agenti sono in difficoltà, il sindacato Sappe denuncia quattro gravi episodi avvenuti a Novara, la garante dei detenuti dice al lavoro con tutti per un clima migliore. Due aggressioni a donne, entra in casa e l'aggredisce, poi fugge con il cellulare, sconterà cinque anni e sempre a Novara, stalking e botte l'ex compagna, condannato a tre anni. Siamo amici da sempre ma non basta, Franco ha bisogno di aiuto concreto. Antonio è un agricoltore cinquantenne che si prende cura del compagno di scuola, chiede l'intervento del comune. Ora dorme a Olengo, ma durante il giorno, come altri al margine, non ha un riparo. Solo un consigliere di maggioranza seguirà Marco Cairo a Oleggio Castello, critici Carnero e Colzato. E poi a Cerano, probabile sfidante del leghista Volpi, una civica con l'appoggio del PD e pronta per Massimo Fusetto. A maggiora sia l'ampliamento della discarica, parere positivo da parte della conferenza dei servizi della provincia, estensione fino a 400 mila metri quadri. La richiesta per smaltimento di inerti aveva diviso il paese con polemiche, striscioni e una petizione con mille firme. Insegnare ai giovani il rispetto ambientale, due mesi di iniziative a Borgomanero e nell'Alto Novarese. Stoppa i rifiuti ingombranti nelle strade di Novara con una telefonata all'assa. Continua la campagna di sensibilizzazione contro questo brutto mal costume con il numero verde e si prenota il ritiro gratuito nel giorno da concordare. Nel VCO il monumento sulla rotonda non era autorizzato da Anas a Gravellona Tocce. I reperti di archeologia industriale sono stati trasferiti al Parco Moroni. Domandosso la piange Mina Darioli, la storica barista di Piazza della Luna, aveva 89 anni, domani il funerale. Politica un bluff, l'idea di ricostruire l'ospedale, giovani due ricette, lavoro e servizi così Riccardo Brezza, assessore uscente, si presenta come il cambiamento che avanza e dice cosa che Albertella non è. In questi giorni ho avuto conferma dell'importanza di ascoltare i bisogni della gente. Chiara Fornara, servono case per giovani famiglie, la città deve contare di più nel VCO, dunque punta sull'aggregazione, la coesione è fondamentale come creare relazioni con le persone, non si vive solo di grandi progetti, daremo attenzione alle piccole cose e alle periferie. Pastori e Lupi, la soluzione per convivere, un convegno tra esperti organizzato da un'allevatrice di Vogogna, appuntamento venerdì 22 a Villa. Tabù allo scoperto, educazione sessuale con Greta Tosoni, Domodossola, incontro oggi alle 18. A Cannero, ultimo weekend tra profumi e colori, degli agrumi a chilometro zero, domani e domenica mostre, visite guidate, laboratorie e musica. E poi gli spettacoli. Al debutto dei nuovi talenti di Nova arriva Paola Zuccar, la signora del rap. Domani alle 18 la manager dialoga con Don Claudio Burgio, ex cappellano al carcere minorile di Milano. I ragazzi del primo laboratorio avviato a Novara presenteranno il loro disco in anteprima. Partecipa il tutor Giuseppe Passalacqua. L'esperienza iniziata due anni fa verrà replicata. A Auleggio al Via stasera la stagione degli Amici della Musica, a partire dalle 21. Sempre stasera al Teatro San Carlo, Requiem per un burattino, la Scugnizzeria ad Arona. Anche questo spettacolo sarà alle 21. E sempre alle 21 le stelle della Val Grande, al Teatro degli Scalpellini, il docufilm a San Maurizio d'Opaglio questa sera. Alle 18.30 nella sede di Gerico Olivetti, esempio d'editoria a Novara Libro Festival nella sala conferenza appunto di Via Ansaldi 4. Stresa la felicità di Emma anche quando la vita finisce. Stasera l'attrice Rita Pelusio è in scena al Teatro dell'Oratorio e poi risate magia con il ventriloco Andrea Fratellini e lo zio Tore a Cannobbio alle 21 al Nuovo. c'è Trop Secret Show Sketch di vita quotidiana con i pupazzi a dialogo. Grande attesa per il derby in Serie C, le facce opposte del derby. Novara Risale, la Pro è in caduta, l'andata agli azzurri erano con il morale a terra e i bianchi in un ottimo momento. Dall'inizio del 2024 la situazione è ribaltata. Lazzaro conquista la qualificazione alle Paralimpiadi, nel tiro a segno è quarto in India. Poi dall'eccedenza alla terza categoria i recuperi sono divisi su più giornate. È stato definito il calendario dei match non giocati domenica scorsa. La Milano-Sanremo è una lotteria e Ganna sarà pronto per giocarsela. Il tecnico del Verbanese Dario David Cioni dice, sono fiducioso, ma solo domani in corsa capiremo la reale condizione. I settimanali della Diocesi, l'azione, il meglio dell'artigianato in mostra al castello di Novara, nel weekend della vetrina delle aziende del Piemonte e poi l'autosilo di via Solferino che verrà aperto a tutti nei prossimi mesi. L'informatore, la provincia dà il via libera alla discarica di maggior ampliamento ma in misura ridotta, i paletti per la sicurezza per i rifiuti inerti. Fondazione del Novarese per il Sacro Monte di Orta tutela dei beni artistici. Il Verbano, in caso di mobbing in municipio che irrompe in campagna elettorale, revoca dell'incarico alla segretaria comunale Molle alla difesa di Marchionini e il distingo di Albertella e Cristina. E poi a Campino sono stati celebrati i cento anni di Don Aldo Gaddia. Andiamo alla prima pagina nazionale della stampa, uccisi dalla fame e dalla sete, tragedia sul barcone di migranti partiti dalla Libia, i nostri SOS sono rimasti inascoltati. Generazione Tananai, via dalla bolla social, la politica, non censuri la musica e gli artisti con l'intervista appunto a Tananai che pone più di una riflessione. Prodi a Conte, siamo alla politica, vince solo il campo largo, il professore il problema è nel suo cervello, il leader del Movimento 5 Stelle risponde magari. La geopolitica, le elezioni farsa nella Russia di Putin dove l'opposizione è stata annientata, lo troviamo anche sul Corriere della Sera, le elezioni blindate di Putin. Da oggi a domenica le presidenziali, blitz dei miliziani russi, Filo Kiev a Belgorod con oltre 190 vittime, urne aperte in Russia, lo ZAR votate per la patria e proteste vietate ai seggi. Oltre 50 migranti morti di sete e fame, noi abbandonati sul gommone, la tragedia a largo della Libia. Poi la situazione davvero drammatica dell'ex calciatore attaccante italo-argentino Daniel Osvaldo tra droga e alcol non esco e chiede aiuto nella sua battaglia contro depressione e dipendenza. E un altro allarme, i disturbi del cibo, c'è l'allarme ma l'Italia non vuole vedere. Che cosa fare? E subito due situazioni per la salute davvero drammatiche perché spesso e volentieri nascoste. La mappa dei paesi al voto, i duelli principali da seguire in questo 2024 in cui il mondo sta cambiando e l'inserto del Corriere della Sera. E poi gli economici. Italia oggi, pensione sempre più lontana per i giovani, più tempo per l'uscita anticipata, l'adeguamento alla speranza di vita non riguarda più solo l'età. Oggi 64 anni ma pure la contribuzione oggi 20 anni. E poi sulle 24 ore si parla sempre di guerra e strappo sempre più largo tra Stati Uniti e Israele. Democratici vanno all'attacco, nuove sanzioni americane ai coloni. E poi bombe sui civili, un nuovo ride degli israeliani sui profughi in fila per gli aiuti. Otto sono i morti ma l'Israele nega di aver lanciato le bombe. Frodi fiscali, le fabbriche italo-cinesi come copertura per gli evasori. E poi Bryant Monian che è il CEO di Bank of America dice Fed e BCE, il taglio dei tassi partirà insieme nel mese di giugno. Un taglio dei tassi davvero molto atteso. Vediamo qual è la situazione del tempo. Oggi e nel fine settimana, a tempo poco nuvoloso, 7 gradi la temperatura minima, 18 gradi la temperatura massima con un picco a 20 gradi sabato. È tutto per questa edizione. Vi auguro una buona giornata, come sempre vi aspetto questa sera alle 20.15 con l'intervista al sindaco Alessandro Canelli. E domenica invece alle 20 parleremo dei temi sociali. Arrivederci. Grazie a tutti.